E' una ragione che si sa, si pensi ma, perché per aiuto ti dà paura, ma se non solo passo come il primo uomo su un bel uomo, perché da fuori un segreto che non deve notare niente, si nasce solo e si muove e non per il cuore con l'altro, siamo altri di colunare soltanto per riuscire a lavorare, se non è stato non accanto all'altro. E' una ragione che si muove e non 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 si mu Grazie a tutti.